Come si può studiare l'architettura oggi? Anche nella fase di apprendimento non dà risultati certi, quindi in cui bisogna avere curiosità, capacità di seguire le proprie curiosità, disponibilità a viaggiare, a conoscere l'architettura dal vero, a studiarla dal vero e a rassegnarsi oppure essere felici di praticare una disciplina che è molto basata sull'autoformazione. E quindi tutto questo evidentemente richiede, al di là della qualità della scuola che si frequenta, grande passione, grande interesse per una disciplina che però ha anche grandi ricchezze, perché al tempo stesso un'attività artistica, quindi di invenzione, di creatività, un'attività che ha degli aspetti tecnici e quindi di grande curiosità da un punto di vista dell'innovazione, delle sperimentazioni che si possono fare, poi come dicevo è una disciplina che ci porta a conoscere il mondo e le persone, quindi è molto interessante.